Da sindaco voglio mettere in campo, in atto la cosiddetta politica dell'ascolto, ascoltare le esigenze dei cittadini e si possono ascoltare queste esigenze se si gira la città, se non si sta rinchiusi in palazzo di città come ha fatto Melucci per quattro anni e mezzo. Ho sempre ascoltato la gente mettendomi contro tutte le amministrazioni di centrodestra e di centrosinistra nei miei 21 anni di attività giornalistica. Mi auguro di fare lo stesso da primo cittadino. Sono qui in piazza Ramellini perché alcuni frequentatori della piazza che simpaticamente io ho ribattezzato come piazza ramellinesi mi hanno sottolineato una situazione di degrado. Eppure circa una ventina di giorni fa, un mesetto fa, l'ex sindaco Melucci era venuto qui e si vantava tanto di aver riqualificato l'area, la zona. Purtroppo non è così. Voglio mostrarvi le criticità della zona. Intanto una situazione di degrado assoluto, di sporcizia. Ci sono purtroppo le feci dei cani. Ci sono certamente alcuni cittadini incivili che hanno questa pessima abitudine da censurare e da sanzionare. Tutto il resto è abbandono, erbaccia, sporcizia. Addirittura sono stati abbattuti due alberi per dare spazio a un WC, un bagno pubblico che tanto per cambiare non funziona. Quindi che senso ha andare a buttare due alberi? Si fa tanto per avere del verde e gli alberi si abbattono per una struttura che poi non funziona. Ma vedete, i problemi degli anziani sono tanti. L'anziano vuole avere i suoi spazi, vuole avere quella panchina per stare un po' all'aria, per scambiarsi due chiacchiere, per rilassarsi un po' dopo una vita, una lunga vita di lavoro e di sacrifici. E misteriosamente qui c'erano alcune panchine, quattro panchine giustamente mi suggeriscono, queste quattro panchine qui misteriosamente sono state tolte. Incredibile, che fastidio davano queste panchine? Tanto più che parliamo di panchine che erano sane. Domanda, forse queste panchine davano fastidio a qualcuno? Forse c'era qualche attività commerciale che non le voleva? Non lo so. Sta di fatto che le panchine sono state tolte. Ed è assurdo poi vedere tanta gente che purtroppo deve stazionare, deve stare all'impiedi. Quando in altre città avviene questo? Ecco, vedete, io ho un'attenzione particolare per gli anziani. Ognuno di noi dovrebbe pensare, vedere nell'anziano quello che è stato o è il proprio padre o la propria madre. E vedere situazioni così in cui non ci sono punti di aggregazione per gli anziani. Si tolgono anche quattro panchine? È assurdo, ma ripeto, mentre stiamo parlando si sente anche un cattivo odore dovuto appunto alla sporcizia. Per non parlare, ma il discorso sarebbe lunghissimo, anche qui vedete una sorta di coperchio di questo tombino è completamente assente. Evidentemente rotto e abbandonato. Vedete, il quadro è desolante. Io penso che gli anziani a Taranto meritino tanto, 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 tanto. L'amministrazione Melucci Musillo, anche Musillo perché ovviamente ha amministrato con Melucci, ha ignorato queste persone. Io voglio dare spazio a una Taranto, alla Taranto che finora non ha avuto voce. Gli anziani vanno rispettati, vanno coccolati e da sindaco intendo avere un'attenzione particolare verso di loro perché il loro bagaglio di esperienza mi sarà prezioso.